Resta alta l'allerta nel Cilento per il coronavirus dopo l'ennesimo caso sospetto di contagio. La persona che potrebbe aver contratto il virus è una donna di 26 anni, di origini ucraine, ma residente nel Cilento e di ritorno dal nord Italia, precisamente dal Cremonese. La donna, che accusava da giorni febbre e tosse, si è recata presso il pronto soccorso del San Luca di Vallo della Lucania nella serata di ieri, indossando una mascherina. Gli operatori del nosocomio vallese hanno subito attuato il protocollo d'emergenza previsto dal governo per il coronavirus. Le è stato effettuato il test del tampone, che è stato inviato al Cotugno di Napoli. I risultati del test ancora non si conoscono e al momento la donna rimane in isolamento al San Luca. Per precauzione, anche gli operatori dell'ospedale, che hanno soccorso la ragazza e che erano presenti nel turno di notte, rimangono in attesa dei risultati per sottoporsi in seguito loro stessi ai test necessari. Il Cilento rimane ancora paralizzato dalla paura e dalla tensione per il coronavirus, anche se fino ad ora in Campania non è stato registrato nessun caso.